Non molla la politica Iva Zanicchi, che appare tra i nomi presenti nelle liste per le europee di Forza Italia. Liste in cui appaiono anche alcuni ex colleghi del mondo dello show beats, ormai votati alla causa amministrativa, ad esempio Alessandro Cecchi Paone. Un ritorno quello di Iva, rieletta deputata al Parlamento europeo nel 2009, anche se la cantante non si considera di certo vecchia. In un breve intervento apparso sulla Repubblica, Iva ammette comunque scherzando di essere la più anziana delle candidate. Io porto l'esperienza, l'allegria, il mondo dello spettacolo, ha dichiarato. Come artista maturo, non invecchio, e se mi dai della vecchia ti schiaffeggio, conclude ridendo.